ciao a tutti ragazzi eccoci qui nuovo video sempre con gli articoli in promo continuiamo sempre con le scarpe in promo ma questa volta vi faccio vedere anche le borse perché hanno un prezzo strepitoso avete seguito le scariche degli articoli che abbiamo avuto questa settimana sulla pagina rgn.fiano di facebook e rgn la forza di instagram e facebook no allora vi faccio vedere mi è arrivato uno stivaletto che poi oltretutto è quello che porto io oggi ai piedi ed è comodissimo in realtà sono due tre giorni che lo porto e non riesco a togliermeli per quanto sono comodi e visto anche il tempo che insomma non si concede questa primavera non arriva allora è uno stivaletto da innanzitutto 19 euro e 99 in promo ce l'abbiamo come vestibilità dal numero 36 fino al numero 41 è comodissimo morbido morbido ha un piccolo plateau di mezzo centimetro abbondante anche qualcosina in più nella parte sotto ovviamente un tacco da 7 centimetri all'incirca ma è veramente comodissimo per tutti i giorni infatti lo sto sfruttando tantissimo un effetto traforato come potete vedere nella parte alta che vuol dire che lo possiamo portare tranquillamente anche per tutto quanto giugno ma anche luglio una sera volendo se fa un po più freschetto la zip di dietro così lo calzate perfetto per quanto riguarda la vestibilità di questa scarpa vi dico subito che io che porto 39 ho preso un 39 quindi calzano veramente veramente bene e stiamo lavorando tantissimo quindi se vi interessa mi raccomando non esitate a contattarci allora adesso passiamo alle borse perché abbiamo scaricato anche dei modelli nuovi di borse che vi voglio assolutamente far vedere per quanto riguarda il loro prezzo è sempre 12,99 euro in promo abbiamo questo modello qui ecco ve lo faccio vedere da questa parte ecopelle morbidissima guardate quanto è morbida pure la parte del manico degli spallacci che sono comunque ben saldi può essere portata anche a tracolla mi piace veramente tanto è morbida e al contempo semi rigida ha una zip e la parte interna come al solito molto capiente e con un divisorio centrale con la zip volendo ovviamente come tutte le nostre borse anche la tracolla all'interno che può essere utilizzata per portarla comodamente e 12,99 euro con dei richiami in oro si è incastrata la zip ecco qua voilà fatto come potete vedere nella parte di dietro poi ha anche una bella tasca quindi è veramente comodissima poi secondo modello che vi vorrei far vedere e qui esce tutto il dark che c'è in me quindi l'effetto delle borchie che mi piace tantissimo e della catenella d'acciaio adesso vi sciolgo la tracolla che ho legato per tenerla un pochino meglio appesa ho fatto un bel nodo ecco qua allora tracolla con un piccolo inserto in ecopelle nella parte superiore nella parte della spalla ovviamente in maniera tale che se andate poi a utilizzarla pensando pure a quest'estate o comunque una serata al locale mettendo la tracolla non avete la catenella che vi batte sulla spalla perché se no vi farebbe male e lascerebbe anche il segno è un modellino semi di grandezza media con l'apertura a clip ovviamente anche questo modello qui la cosa che adoro sono le rifiniture a una bella zip perché comunque anche la chiusura a clip se non lo chiudete bene magari rischi che cade tutto e quindi è veramente fastidioso mentre invece questa qui ha una bella apertura a zip che fa vedere tutto quanto al suo interno medio grande anche questo modello qui con porta cellulare, porta documenti e una bella taschetta all'interno e qui tranquillamente un bel portafoglio anche di quelli grandi ci può entrare un bel porta occhiali si si comoda comoda ah un'altra cosa fantastica di questo modellino qui se volete portarla come handbag tranquillamente basta regolare la catenella e ecco lì che a doppio diventa anche più corta ok sempre 12 euro e 99 adoro 12 euro e 99 veramente carinissima già me la vedo con un appeggiamento un po' più leggero sperando che arrivi ovviamente se state lunghe se la fa più basta sono stanca adesso freddo voi? allora vabbè a parte questo a parte le mie lamentele come al solito per il freddo vi faccio vedere subito un altro modellino allora è altro modellino semi rigido in vernice carinissimo semplice semplice non troppo grande con le borchiettine nella parte qui avanti borchiettine argento eccoci qua anche questa ha parte il cuscinetto che mi serve per fare lo spessore per quando le teniamo esposte ha un separé quindi ha tre scomparti di cui uno centrale rigido semi rigido anche questo con la zippetta dove potete tranquillamente mettere documenti fogli importanti e richiuderla anche questo lo scomparto per il cellulare e un portapenni ovviamente anche questo modellino qui ha la tracolla a disposizione sempre 12 euro e 99 con uno spallaccio abbastanza grande quindi può essere tranquillamente portato guardate quanto è carino quando si dice che basta una borsa un accessorio per cambiare il look veramente veramente carina nella parte posteriore è tutta quanta liscia senza borchiette ovviamente con la lavorazione a quadrucci come potete ben vedere mi piace tantissimo ha un'ottima capienza pur essendo un semi rigido e poi la cosa fantastica sono le zip che vanno a chiudere tutta la parte della borsa come vi dicevo sempre per non far cadere nulla all'esterno allora vi faccio vedere l'ultimo modello anzi ve la faccio vedere in due versioni c'è rientrato lo zainetto arrivo subito scusate eccomi qui eccomi qui c'è rientrato lo zainetto con le paillettes che a seconda di come vengono pettinate cambiano l'effetto quindi abbiamo lo zainetto 12 euro e 99 la versione leggermente più piccolina con gli spallacci in tessuto molto molto carino 12 euro e 99 anche questo zainetto qui aspettate facciamo una cosa per volta anche questo zainetto qui ha la zip ha due cursori per quanto riguarda la zip quindi è comodissimo veramente da poter utilizzare con l'apertura completa praticamente arriva fino a metà impossibile non arrivare a prendere quello che c'è all'interno ma la versione nuova che c'è arrivata questa settimana sempre a 12 euro e 99 le nostre borse tutte in promo allo stesso prezzo ha le paillettes argento che vedete che all'occorrenza vanno sul nero e questo diciamo che potrebbe essere sicuramente uno degli zaini che utilizzerei pensando anche a quest'estate quindi versione sia per andare al mare sia per uscire la sera nella parte nera per andare al mare mi viene in mente anche la parte argentata molto molto carino ma anche per tutti i giorni non soltanto per il mare perché ovviamente non è detto ha una bella zip nella parte avanti e la zip che va a aprire tutta la parte dello zaino con all'interno addirittura un'altra zipetta porta per porta documenti agli spallacci di questo modellino qui sono in ecopelle mi piace aspetta ve lo faccio vedere chiuso scusate mi piace veramente tanto 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 e poi ottimo il prezzo ma comodissimo soprattutto perché la comodità è la cosa fondamentale questo è il modello a questo punto non mi rimane che ricordarvi di premere il tasto rosso e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di commentare con l'hashtag rgn lovers se volete comunicarmi qualcosa e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi le nostre pagine dove potete trovare tutti quanti gli articoli che abbiamo a disposizione quindi su facebook rgn lovers e su instagram rgn lovers da dove facciamo anche lo shopping online e su facebook la pagina ufficiale del nostro punto vendita rgn punto fiano da manuele è tutto vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti